Sentiamo Francesca Lagorio. La coalizione di centrodestra resta a quattro gambe. I candidati animalisti saranno infatti accolti direttamente nelle liste di Forza Italia. Lo annuncia Berlusconi dall'auditorium del Museo della Scienza di Milano accanto alla Brambilla. Sono incandidabile. Attacca Berlusconi per una sentenza assurda e criminale ma in campo per difendere l'Italia dal pericolo del Movimento 5 Stelle. Questi signori, io li ho potuti osservare durante questi ultimi anni, sono esattamente così. Non hanno dei valori, non hanno dei principi.